il magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi vi porto un altro talento arrivato in questo calciomercato nella nostra serie A in realtà è da un bel po di giorni che c'è stata la sua ufficialità ma ho aspettato per diverse vicissitudini per portarvelo qui sul canale vi ricordo di lasciare un grandissimo like di iscrivervi al canale perché per tutti voi iscritti ho pensato un regalo straordinario però dovete fare due cose una è iscrivervi al canale e l'altra venire a seguirmi su instagram perché è lì che potrete usufruire del vostro regalo altra cosa vi ricordo come sempre sono attivi gli abbonamenti qui su youtube si parte da 0.99 ma ci sono anche gli abbonamenti sulla piattaforma viola dove facciamo le live sia adesso per prepararci all'asta ma anche dopo per i fantaconsigli e lì se avete amazon prime potete collegarlo alla piattaforma viola e è gratis abbonarsi al canale vi farò uno spoiler in questo video ma ve lo faccio più avanti cominciamo subito ragazzi allora marcus turam figlio d'arte figlio di lilian turam francese classe 1997 25 anni altezza 1 metro e 92 dal 2019 al borussia in germania 111 presenze 34 gol e 22 assist diciamo che un attaccante che ha anche il vizio del gol ma sa fare anche assist andiamo subito con le discussioni acquisto a parametro zero ecco per quello che l'ha pagato l'inter secondo me hanno fatto un bel affare è vero che hanno dovuto spendere qualcosina in più sull'ingaggio però è un rischio calcolato benissimo perché mal che vada che l'inter non sia contenta di turam o anche faccia benissimo e poi vorrebbe monetizzare questo suo acquisto l'inter mal che vada ci ha fatto bene perché non pagandolo nulla e quindi solo un anno di contratto marotta ha fatto un altro acquisto di quelli fenomenali e in questo periodo in cui il calciomercato è influenzato diciamo da da diverse nazioni che hanno tanti soldini per me è un capolavoro caratteristiche diverse degli altri attaccanti sì perché io aspettavo per capire un po' cosa potesse succedere con Romelu Lukaku onestamente più passava il tempo e più anch'io mi convincevo dalle sirene un po' di calciomercato che Lukaku stesse per approdare all'Inter poi nei giorni scorsi è scoppiato il caso Lukaku con con l'Inter che infastidita giustamente dall'atteggiamento sia di Lukaku ma anche dei suoi procuratori e non se ne fa più nulla io queste schede le avevo già fatte da diverso tempo però avevo quella quel timore sapete che io porto i giocatori anche subito ma qui avevo un presentimento strano e quindi ho detto io aspettiamo prima che Lukaku arrivi e poi ora Lukaku è saltato e quindi dovremo vedere chi sarà l'altro attaccante che andrà a comporre un po' diciamo l'attacco dell'Inter insieme a Lautaro, Turam e forse Correa anche se lui ci sono delle voci di mercato andiamo a vedere i pro, metto i primi tre velocemente forza fisica, buona progressione, attacca bene la profondità poi ce ne sono altri di pro allora lui nonostante sia un giocatore dinamico uno che attacca la profondità uno che riesce a saltare l'uomo con una buona progressione se gli lasci il campo aperto questo va e ti fa male ha anche tanta forza fisica quindi sa difendere palla non lo butti giù è un giocatore molto interessante infatti io lo avevo a Euroleague e del suo acquisto ero molto molto contento molto abile nei dribbling perché è uno che ti punta ti salta, crea superiorità numerica e poi come ci dimostrano anche un po' le statistiche fa anche assist perché magari a volte serve il compagno a volte calcio in porta e gol li sa fare anche lui stesso discreto finalizzatore sì sicuramente non è un bomber alla Lukaku, alla Lautaro però sicuramente è un giocatore che può portarci diversi bonus sia in termini di gol sia in termini di assist è un giocatore che secondo me essendo che nella rosa come dicevo prima non ci sono tanti giocatori con quelle caratteristiche qualcosina può avere Correa che però come vi dicevo potrebbe anche andare via perché l'Inter forse vorrebbe venderlo quindi sicuramente indipendentemente dall'attaccante che arriverà all'Inter lui il suo minutaggio lo farà anche perché l'Inter ovviamente avendo anche tutte le competizioni non possono mai giocare sempre gli stessi giocatori e quindi mi aspetto un ottimo minutaggio da lui un po' come successe l'anno scorso con Dzeko che alla fine lo si prendeva a poco però poi alla fine i gol li ha fatti forse più nella prima parte di stagione però al fantacalcio sono sempre bonus portati a casa andiamo con i contro nel 2021 rottura legamento collaterale del ginocchio ovviamente ragazzi io li porto per non mettere sempre solo pro perché sembra che i giocatori non abbiano dei contro questo sicuramente è un piccolo aspetto da andare a mettere in evidenza perché speriamo ovviamente che non abbia nessun problema fisico ecco e poi ci ho messo la dubbio di polarità perché secondo me l'Inter un altro grande attaccante lo comprerà ma come vi dicevo io sono convinto che Turam il suo minutaggio lo avrà ragazzi ma i like li stiamo lasciando perché ora vado a fare lo spoiler e i like sono d'obbligo allora ragazzi vi dico già io avete visto il video di Gudmundson come miglior talento della serie B era un giocatore che sicuramente già conoscevate e io ci ho messo dei dati miei che ho analizzato io e ho cercato di portarvi il nome per spiegarvi anche un po' quello che penso io e il budget da dedicare quanti gol mi aspetto e tutto questo però ora ho un talento che ho visto all'opera e che mi era appuntato l'unica cosa è che non so quando portarvelo sono convinto che lo troverete solo su questo canale perché non è facile da andare a scovare perché come vi dico sempre io guardo una montagna di highlights e poi cerco sempre di guardare partite anche durante tutto l'arco della stagione è un giocatore che potrebbe fare benissimo e che non paghereste mai più di un credit quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate una montagna di like sempre continuiamo ragazzi allora la prediczione di bonus su Turam io ci ho messo 8-10 gol secondo me questo è un range di gol che lui può tranquillamente fare anche se arrivasse un altro attaccante magari titolarissimo insieme insieme a Lautaro lui anche dovesse partire nelle gerarchie come terza scelta è pur sempre un giocatore che giocherà tanto come vi dicevo per le diverse competizioni e in più mi aspetto 5-6 assist forse sono stato un po' di manica larga magari potevo mettere 4-5 però secondo me questo è un range giusto per Marcus Turam e poi vado a fare il budget di spesa io ci ho messo l'8-10% poi ragazzi ovviamente sono dei dati generali perché magari se fate un fantacalcio a 6 potreste spendere anche magari un 5-6% già se lo fate a 8 secondo me si alza 7-8% se lo fate a 10 secondo me potrebbe arrivare anche al 10% poi nelle percentuali potrebbe andare a incidere anche se arriveranno tanti giocatori buoni davanti o meno perché in questo periodo ancora se andiamo a guardare gli attaccanti a disposizione in Serie A non è che siamo così forniti quindi vediamo un po' il calciomercato se porterà le punte le punte forti nel nostro campionato ma tiriamo le ultime somme mi raccomando i like ragazzi e le iscrizioni al canale perché sta per arrivare un regalo per tutti voi iscritti e dovete seguirmi però anche su Instagram perché lì potete raccogliere il vostro regalo allora su Turam ragazzi per me è un acquisto che se riuscite a farlo a un prezzo contenuto è un acquisto che vi può dare tanto al fantacalcio magari ovviamente non sarà il vostro primo slot magari neanche un secondo slot ma può essere un giocatore da mettere lì mettere in campo nelle partite giuste o se magari va a fare una stagione straordinaria diventare un vostro titolarissimo altra cosa fondamentale secondo me forse non sarà facile la sua gestione perché magari spesso potreste non sapere se parte titolare o no però io non andrei a fare tanto questa analisi perché alla fine uno deve prendersi giocatori potenzialmente forti e secondo me lui il potenziale soprattutto per il budget che penso possiate spendere sia un giocatore interessante poi come sempre vi dico andate a guardarvi i video gli highlights trovate un po' di notizie anche voi e se a voi piace andate ad acquistarlo io ve lo ripeto ragazzi ho trovato un talento straordinario che sono convinto che possiate trovarlo solo su questo canale e lo pagherete un credito l'unica cosa che non so è quando lo porterò sul canale quando vedrò che il sostegno vostro in termini di like sarà veramente importante magari i video esce questo video e raggiunge 500 like allora magari sarà il momento giusto di far uscire questo talento per tutti i miei iscritti al canale perché non farò nessun video dedicato agli abbonati saranno tutti per voi iscritti e quindi sostenetemi grazie ciao ragazzi grazie 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 a tutti